le cinesi è stata considerata pianta sacra al pari di riso frumento orzo e miglio e ritenuto alimento base per eccellenza in ragione della sua ricca composizione dalla quale dipendono pregi e difetti parleremo della soia nella prossima puntata del gusto della salute in programma venerdì 24 marzo alle ore 15